E oggi cerco di raccontarvi una storia in breve, i due mondi delle royalty. Cosa significa i due mondi delle royalty? In un mondo noi abbiamo i negozi di dischi, gli store online, Spotify, i vinili. Nell'altro mondo abbiamo il mondo degli utilizzatori professionisti, quegli utilizzatori che pagano, che sono organizzatori di eventi magari, e che pagano i monopolisti, la CIA in Italia, per utilizzare musica per scopi professionali. Sono due mondi completamente separati. Voi conoscete bene il mondo dei dischi, dei negozi online, quello che vedete spesso sulla carta stampata. Ma c'è una particolarità che differenzia in maniera netta questi mercati, questi due mondi. Uno è il libero mercato e l'altro è un mercato in monopolio, in quasi tutta Europa. Quindi da una parte abbiamo un mercato in cui le persone lottano per emergere, lottano per offrire un servizio migliore. E dall'altra parte invece abbiamo delle grosse società nazionali che godono di privilegi monopolisti. Vediamo un po' se ha senso questa divisione. Vediamo prima di tutto la grandezza di questo mercato, il mercato dei monopolisti, che è un mercato che non leggete mai sulla stampa, ed è un mercato molto grande. Parliamo di 5 miliardi in Europa, un flusso di denaro gestito da monopolisti. Ogni nazione il suo monopolio e vedremo perché. Per darvi un'idea, il mercato della musica di sottofondo, cioè quella musica che voi ascoltate al supermercato mentre fate spesa, è un mercato da un miliardo di euro in Europa. È lo stesso valore più o meno del mercato del live. Quindi pensate che flusso di soldi gestito da monopolisti. Cerchiamo di capire che cosa fanno questi monopolisti. Ogni volta che un utilizzatore professionale paga una royalty al monopolio, questo monopolio ripartisce agli aventi diritto che di fatto sono iscritti al monopolio. Già questo è strano. Sono monopoli, ma l'iscrizione è facoltativa. Un autore, un editore, non è obbligato a scriversi alla SIAE. È facoltativa l'iscrizione. Quindi noi abbiamo un monopolio che incassa di diritto dall'utilizzatore e che ripartisce ai propri aventi diritto che sono iscritti. Oggi mi hanno raccontato che c'è un'esibizione qui alla fine e quell'esibizione giustamente è stata pagata a SIAE per quegli otto minuti di esibizione ed è pagata al monopolista. Cerchiamo di capire meglio questi monopolisti che fanno. L'iscrizione di monopolio, come dicevo, è facoltativa, ma di fatto è l'unica scelta. Perché sì, è vero che è facoltativa, ma se io voglio essere pagato per la mia performance che è stata utilizzata da un utilizzatore professionale, di fatto devo essere iscritto al monopolio, se no chi mi paga? E la cosa interessante è che l'iscrizione a questo monopolio non è gratuita, è a pagamento. E il 60% degli iscritti a questo monopolio non recupera neanche la tassa di iscrizione annuale. Cioè io pago una tassa di iscrizione, pago 100-120 euro e alla fine dell'anno non ho recuperato neanche quei 100-120 euro a questo monopolio che di fatto è l'unica mia possibilità per, diciamo, gestire le mie royalties. Ma la cosa più incredibile è che in Italia questo monopolio è un'associazione di autori ed editori, ma il voto è per censo. Cosa significa il voto per censo? Significa che più sei ricco, più il tuo voto vale. Più sei ricco, più il tuo voto vale. È da statuto, non è una cosa così, è da statuto. Quindi le regole di questo monopolio, le regole di ripartizione di questo monopolio sono decise da chi è più ricco. Ora vediamo un attimo che cosa succede in un mercato in cui ci sono monopoli. Voi sapete bene che di solito il monopolio porta in efficienza, ma in questo mercato hanno veramente esagerato, secondo me. Perché vediamo un po' che cosa succede per gli aventi diritto. Prima di tutto la ripartizione delle royalties che vengono incassate non è una ripartizione analitica. Cioè non si paga secondo ciò che è stato effettivamente suonato, ma si paga secondo le regole decise dal Consiglio di gestione del monopolio. Cioè quei ricchi che avevano deciso per tutti gli associati. Quindi se per esempio un supermercato qua dietro paga mille euro al monopolista, il monopolista non chiede al supermercato che cosa viene suonato, ma ripartisce quelle royalties, cioè i compensi di autori ed editori, parliamo di compensi di autori ed editori, i soldi di autori ed editori, li ripartisce a chi desidera e non a chi è stato effettivamente suonato. E soprattutto li ripartisce con una lentezza incredibile. Voi pensate che il tempo standard per pagare un autore ed editore che è stato suonato sono circa 18 mesi. Cioè voi avete pagato queste esibizioni 8 minuti alla fine? Gli aventi diritto di quei brani riceveranno questi soldi che voi avete pagato, 180 euro eccetera eccetera, tra 18 mesi se va bene. 18 mesi. Voi accettereste di fare un lavoro e essere pagati dopo 18 mesi? Ma le cose più incredibili non finiscono qua. Dopo che tu hai ricevuto questi soldi dopo 18 mesi, non hai nessuna possibilità di andare a capire perché li hai ricevuti. Perché non c'è tracciabilità, non c'è trasparenza e non c'è account online. Cioè tu ricevi questo assegno, 50 euro dalla televisione o dall'esibizione pubblica, ma non puoi veramente risalire al perché queste 50 euro sono state guadagnate. E se non puoi risalire, se non c'è tracciabilità, non c'è trasparenza, c'è una nube nera intorno alla tua conoscenza. E quindi sei ignorante. L'unica cosa che puoi fare è lamentarti. Ma non puoi fare veramente qualcosa se c'è una nube nera. Non sai cosa hai guadagnato o cosa non hai guadagnato. E poi vi lascio dire, vi lascio immaginare che gli utilizzatori che pagano si lamentano ovviamente, perché il monopolista non pensa agli utilizzatori. Quindi pagamenti difficili, pagamenti complicati. E la cosa più brutta è che il pagamento è percepito come una tassa. Quando voi avete pagato 180 euro oggi pomeriggio per questa esibizione, non l'avete pensato come un pagamento agli autori dei brani che sono stati suonati e che saranno suonati, e quindi come una cosa bella. Ma è stata percepita come una tassa. E questa è la cosa più brutta in assoluto. Perché trasformiamo un giusto pagamento, un giusto compenso per il diritto d'autore in una tassa. Ora, tutto questo non ha ragione di esistere. Da un punto di vista tecnico, non c'è ragione. Da un punto di vista tecnico è possibile per qualsiasi utilizzazione ripartire questi compensi in maniera facile, veloce e trasparente. È possibile monitorare ogni singolo utilizzo dei brani in qualsiasi utilizzazione e dare una rendicontazione praticamente in tempo reale. In tempo reale. In cui un qualsiasi utilizzatore, un qualsiasi avente diritto, può andare sul suo account line e vedere la mia musica è stata suonata a Roma, a Stoccolma, a Perugia. Cioè, francamente, è un settore dove l'innovazione tecnologica potrebbe cambiare completamente la sorte degli autori ed editori. Perché noi non dobbiamo pensare a quell'autore ed editore megastar. Noi dobbiamo pensare a quell'autore ed editore è che ogni anno fa 20, 25, 30, 35 mila euro. Quella fascia media che fa difficoltà. Bene, a quella fascia media, 5 mila euro in più o 10 mila euro in più, cambiano la vita. E quindi una ripartizione in maniera analitica, una capacità di vedere i suoi compensi dove sono, gli cambierebbe la vita. Vi faccio capire, con uno schema abbastanza semplice, perché è una questione, diciamo, soltanto tecnologica e non è una questione, diciamo, giuridica, non è una questione, è una questione di tecnologia, di efficienza del processo. Noi abbiamo degli autori che sostanzialmente licenziano, attraversano queste società, utilizzatori professionisti. Poi si dovrebbe fare l'analisi di ciò che è stato suonato e pagare le royalties. Non è fantascienza, non è la cura per il cancro. È qualcosa di assolutamente possibile. E perché non si è fatto allora? Perché? Perché i monopoli non favoriscono l'innovazione e non permettono fondamentalmente ad altri di emergere. E allora l'Europa a un certo punto ha deciso di voltare pagina. Nel 2008 decide attraverso la decisione CISAC che ogni autore e editore si può iscrivere alla società che desidera in Europa. E non si ferma qua, perché nel 2014, a febbraio 2014, liberalizza per sempre, in tutto il territorio europeo, il mercato del diritto d'autore. E dice, con molta semplicità e chiarezza, questa direttiva, la direttiva Barnier, dice tre cose. Ogni autore ed editore è libero di iscriversi alla società che meglio preferisce in Europa. Ogni autore ed editore è libero di assegnare differenti classi di diritti a differenti società. e ogni utilizzatore compra dove vuole. Il mercato è libero fondamentalmente. E lo dice con grande chiarezza, ma d'altronde come si fa a pensare che in Europa, nello spazio dell'Europa unita, non si possa fare concorrenza da una nazione all'altra? E allora adesso in Italia sarebbe proprio il caso di cambiare questo monopolio. Ma che cosa succede in Italia nel frattempo? Fedez si disiscrive dalla CIA, una settimana fa. La Carrae e Ligabue dicono che vogliono la liberalizzazione. 300 innovatori ed imprenditori scrivono al Premier Renzi per la liberalizzazione. Una campagna che parte dal basso, Franceschini ripensaci, invade il web. Tutti i partiti propongono emendamenti pro-liberalizzazione. Il ministro Franceschini dice io voglio il monopolio. Staremo a vedere che cosa succede. Grazie, grazie. 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 Grazie.